Segreti di famiglia, dopo la puntata del 29 agosto, la serie viene sospesa fino al mese di novembre. Ecco le anticipazioni che vedremo quest'autunno, quando la serie tornerà in onda su Canale 5. Jaylene e il Gaz si sono finalmente confessati i loro sentimenti, ma quando lei si avvicina per baciarlo, lui si tira indietro. C'è qualcosa che ancora lei non sa e che la ferirà molto e che la indurrà ad odiarlo. È il momento per il Gaz di confessare. Suo padre Metin è uno dei responsabili dell'ingiusto arresto avvenuto sei anni prima di Zafer. Jaylene non può crederci. Il Gaz riesce solo a dirle che Metin ha accettato di tradire il suo onore per amore di sua madre. La donna, al tempo molto malata, avendo bisogno di cure specialistiche, aveva portato la famiglia ad arrancare a livello economico. Il capo di Metin, offertisi di pagare le costose cure, ha chiesto in cambio a Metin di tacere la verità sul caso di Zafer, condannandolo così ad una sentenza di colpevolezza che non meritava. Jaylene, sconvolta, si precipita subito dentro casa per affrontare Metin. Arrivata alla porta, le apre la piccola Daphne, felicissima di vederla, ma lo stesso Metin la fa allontanare capendo subito che ormai Jaylene conosca le sue colpe. Jaylene è durissima con Metin. Lui, che si è sempre vantato del suo onore e della sua onestà, ha arrestato ingiustamente suo padre, costringendolo a stare lontano dalla sua famiglia per ben cinque anni. Anni in cui, soprattutto Ingi, ha patito la lontananza del padre e la povertà che ne ha conseguita. Forse, se Zafer non fosse mai stato arrestato, sua sorella Ingi non avrebbe mai cominciato a spacciare e la sua vita sarebbe stata migliore, non conducendola così alla morte. Jaylene è perentoria. Metin pagherà per quanto ha fatto. Se non si autodenuncerà, sarà lei stessa a denunciarlo e a farlo arrestare, così che anche lui sappia cosa significa stare lontano dai propri figli. Jaylene, arrabbiata, va via ed incrocia di nuovo Daphne che, avendo sentito tutta la discussione, è in lacrime e prega Jaylene di non far finire suo padre in carcere. Jaylene cerca di andare via, ma il gas la raggiunge. Lui sapeva già da un po' le colpe del padre e le ha tenuto tutto nascosto. Jaylene è distrutta, si è innamorata di un uomo che per mesi le ha mentito. Il gas, che vede Jaylene allontanarsi inevitabilmente da lui, preso dalla disperazione, distrugge un camper che da mesi stava sistemando, mentre Metin, in preda ai sensi di colpa, non può fare altro che biasimarsi. Seda non ha accettato la proposta di Yekta di smettere di minacciarlo in cambio della gestione del suo studio di avvocati, e l'uomo adesso si trova in seria difficoltà. Anche Ginar è in difficoltà. Ritrovatisi davanti suo nonno Mert, l'uomo gli chiarisce che non lo aiuterà a scappare dal paese. Mert non solo vuole sapere come Ginar si sia procurato i soldi per pagare il passaporto falso e il passaggio per l'estero, ma esige sapere il perché della fuga. Ginar ovviamente non confessa nulla e scappa via con l'intenzione di rivolgersi a qualcun altro. Uscito dal posto in cui ha incontrato Mert, Ginar rivede Serdar, arrabbiatissimo con lui per non avergli confessato di essere il nipote del temutissimo Mert. Serdar però non ha solo paura della figura di Mert, il ragazzo nasconde qualcosa di grave. Tramite un flashback scopriamo che Serdar ha ricevuto ordini da Engin per pedinare e minacciare Ginar. Serdar infatti ha seguito Ginar quando Zafer lo ha rapito e dopo l'omicidio dell'uomo è stato proprio lui a prendere la pistola incriminata e successivamente a rubare il cadavere di Zafer e a seppelirlo insieme ad un amico, tutto sotto ordine e pagamento di Engin. Serdar ha poi anche seguito la zia di Ginar intercettando il negozio dove la donna ha comprato il cellulare per il ragazzo, riuscendo così a far trovare a Ginar sul cellulare le foto dell'incontro con Zafer. Per questo Serdar ha così paura. Non solo ha tradito il suo amico, ma il nonno del suo amico è un pericoloso e rinomato criminale che potrà facilmente vendicarsi. Jaylin, sconvolta, va da Eren e lo aggredisce subito. Convinta del fatto che anche lui le abbia nascosto la verità su Metin, Eren però non ha mai saputo nulla e anche lui rimane deluso nello scoprire che Metin, il suo mentore, ha fatto arrestare un innocente. Jaylin si sfoga con il suo amico e anche se Eren cerca di difendere in qualche modo il gas, la ragazza è troppo sconvolta per provare empatia con chi le ha mentito per mesi. Ginar torna a casa e vedendo il gas ubriaco in mezzo ai rottami del camper capisce che qualcosa non va. Chiede subito spiegazione a Metin che gli confessa cosa ha fatto anni prima a Zafer. Ginar cade nello sconforto, la sua situazione è sempre più grave e adesso che è stata anche denunciata la scomparsa di Zafer e che Nguin lo minaccia, vede la sua vita scivolargli letteralmente dalle mani. È tempo di confessioni anche per Deva. La donna, dopo aver preso il fascicolo del caso edilizio nell'ufficio di Pars, spiega al fratello perché ha tradito la sua morale e perché si sia liberata così in fretta di quel caso. Lo ha fatto per il gas. Deva, per troppo tempo lontana dall'uomo che ama, aveva deciso di tornare al più presto possibile ad Istanbul per riconquistare il gas. Pars le spiega che non solo non ha ottenuto nulla ma che adesso lo stanno anche minacciando e che se non la denuncerà lui ci penseranno Nguin e il suo avvocato. Deva cade nello sconforto e prega Pars di aiutarla a trovare una soluzione. Ha perso il gas e non può anche perdere la sua professione. In preda al panico Deva minaccia anche il suicidio ma Pars cerca subito di tranquillizzarla. Nel frattempo Nguin ancora in isolamento chiede insistentemente la consegna di un libro che sembra ancora non essere disponibile ma al quale lui sembra tenere molto. Il giorno dopo Mert informa Metin del fatto che Ginar voglia scappare e lo mette in guardia sulle mosse del figlio. Metin si precipita da Ginar e il ragazzo gli spiega di non avere più tempo e di non avere più la forza di vivere nella vergogna e nel rimorso di aver ucciso Zafer. Metin cerca di tranquillizzarlo ma anche di fargli capire che il modo di espiare le sue colpe dovrà essere proprio quello di vivere nella vergogna e non di mettere la loro famiglia ancora più in pericolo. Poco dopo Jailin si presenta a casa loro ed espone ciò che ha deciso. Non denuncerà Metin, non può togliere il padre a Daphne facendola così vivere il dolore che lei ha vissuto. Ha chiesto anche il divorzio del caso non potendo più neanche sopportare di condividere il suo nome. Pars, determinato a salvare la sorella fa perquisire la cella di Engin dove finalmente trovano il suo cellulare illegale. Ordina quindi subito di scoprire tutto ciò che c'è all'interno così Pars convoca anche Seda per interrogarla visto che probabilmente Engin ha usato il cellulare proprio per parlare con il suo avvocato. In commissariato, Eren, sempre più pensieroso e sconvolto per aver scoperto che Touche è sua figlia chiama insistentemente Oslem per poter parlare con lei. La donna rifiuta subito ma alla fine accetta di incontrarlo in un caffè. Mentre Pars assiste la sorella sentitasi male durante un'udienza Parla disputa finalmente la sua gara di nuoto. Si tratta di una staffetta squadre e grazie soprattutto alla velocità riacquisita di Parla la squadra vince la medaglia d'oro. Nonostante quanto successo la sera prima il Gass e Gélin devono comunque confrontarsi sul caso dell'ospedale. Gélin, infatti, ha scoperto che la madre della bimba malata ha in realtà firmato tutti i moduli di consenso per le cure della figlia e sospetta quindi che sotto ci sia qualcosa di più. Inoltre scopre anche che la donna ha già denunciato un altro ospedale denuncia poi ritirata una volta ottenuto un risarcimento in denaro. Sia Gélin che il Gass sospettano che la madre della bimba sia in realtà affetta dalla sindrome di Munchausen per procura ovvero che avveleni la figlia per ottenere continue attenzioni da medici e conoscenti. La donna quindi potrebbe volontariamente avvelenare la figlia solo per rendersi protagonista di una tragedia familiare e ottenere le attenzioni che le mancano. Gélin e il Gass decidono così di intervenire subito e uscendo dalla procura incrociano Seda. Gélin la conosce già e le due sembrano anche avere un buon rapporto ma quando Pars informa Gélin che Seda è l'avvocato di Enghin lei va su tutte le furie e gli chiede come possa difendere l'assassinio di sua sorella. Seda non sembra più di tanto interessata alle rimostranze di Gélin e così quando lei le urla che se Enghin dovesse essere assolto lei stessa lo ucciderà il Gass la trascina via per tranquillizzarla. Seda viene interrogata da Pars ma a quanto pare il procuratore non ha nulla contro di lei. Seda fa per andarsene ma Pars la trattiene in custodia. Questo va contro la legge e lo sa anche Seda che lo mette in guardia. facendo questo illecito anche lui sarà lì ricattabile come la sorella. Pars però non ha scelta le 18 del pomeriggio si avvicinano e sua sorella rischia la carriera. Decide ugualmente di trattenere in custodia Seda e rallentare il suo piano con la speranza di trovare qualche prova che possa incastrarla. Finito con Seda Pars viene raggiunto da Jekta che gli fornisce la documentazione che attesta gli squilibri mentali di Enghin così da poterlo sbugiardare quando attuerà le sue minacce. Oslem ed Eren si incontrano. Lui le dice subito di aver scoperto che Toucet è sua figlia e chiede il perché lei glielo abbia tenuto nascosto per ben 15 anni. Oslem in lacrime gli spiega che ha scoperto di essere incinta dopo la loro rottura e pensava che lui non avrebbe accettato di tornare con lei dopo aver scoperto le sue bugie. Al tempo infatti Oslem aveva detto ad Eren di non avere più nessun rapporto con il suo ex Fatih quando in realtà i due avevano una relazione anche se lui era detenuto in prigione. Una volta scoperta la gravidanza così Oslem ha deciso di far credere a Fatih di essere lui il padre di Toucet per avere la sicurezza di una figura maschile accanto. Eren le spiega di essere stato minacciato e che bisogna al più presto confessare a Toucet che lui è in realtà suo padre. Oslem però non è assolutamente d'accordo se Fatih dovesse scoprire tutto ucciderà sicuramente lei e la figlia. Eren però è perentorio e le dice di presentarsi alle 17 insieme a Toucet per parlare di tutto insieme. Eren va via e poco dopo anche Oslem che non sa di essere stata seguita per tutto il tempo da suo marito Fatih. Parla è il settimo cielo per aver vinto la staffetta con le sue compagne e riceve un mazzo di fiori anonimo. Felice e Lusingata legge il biglietto allegato ai fiori e rabbrividisce. Sul bigliettino c'è scritto che chi lo manda sa che lei è dopata. Se non consegnerà entro le 18 la sua medaglia autodenunciandosi verrà denunciata pubblicamente e rovinata davanti ai suoi genitori. Terminano così queste anticipazioni. Non comprendiamo la scelta di Canale 5 di sospendere la serie Segreti di Famiglia anche perché a differenza di molte altre serie questo è un thriller e la trama e la costanza nel seguire la trama è tutto. In compenso la domenica andrà in onda La Rosa della Vendetta e Segreti di Famiglia dovrebbe tornare nella programmazione proprio alla fine della Rosa della Vendetta. Io sono Stefania vi aspetto nei commenti e ci sentiamo per i prossimi video vi mando un abbraccio e a presto.